Signori, premi Rivals Division 2, nel mio account signori, premi Rivals Division 2, eccoli, sublimi premi nel mio account, Division 2, vediamo un po' i pacchi, un team of the week, due pick 84+, 50.000 crediti, un 40.75+, 30.75+, scambiabile, due pacchetti mega, per il contenuto signori, per il contenuto, andiamo con questi pick e tozzi, tutti pazzi, niente betta perché la cuciniamo fortemente, non è che me dai, ah, bello Tavi, è qua, va, che ta rimetta il monno, ah, sono scambiabili i pick, davvero, buono, avremo se il secondo, ti posso dire che ci fa meno in scambiabile, ma a collo, costa tipo 30k, vè, via amico mi, buono però scambiabile, venni subito, ma che sei matto, 39.000 crediti, sono i miei, sono i miei, vabbè, lì fu 82+, voglio trovare solo Virs, non è manco scambiabile, perfetto, ATT, chi cazzo è, ma chi è, ah, Nicolas Jackson, bello, tanto questo non ci interessava, rega, solo Virs, capito, vabbè, Nicolas Jackson che ti fa la mossa del, del pinguino che ci può anche stare, è finita la bet, e andiamo, prima partiamo dai pacchetti mega, perché sono la storia, vediamo, walkout, no, perfetto, ATT, Italia, Ciro Mobile, Ciro Gnobile, Ciro Gnobile ho trovato, Erla Zialot, Ciro Gnobile ho trovato, ma porco schifo, andiamo a peristartolo pacchettozzo, da giù, ma è da fare, per me no, niente walkout, CDC Brasile, basta, chi cazzo è, Turca che è freddo, ti è becca Mugiele, vedi che roba, però ti posso dire, ma volete lo stemma dell'Inter, non è che lo stemma dell'Inter costa qualcosa, no? Oh, ma lo stemma dell'Inter si venne, ma non lo scherziamo, oh, ma che sei matto, lo stemma dell'Inter, ma so 5k, oh, la maglietta del Sertic pure, ma regà vabbè, qua stiamo a scuola troppo, eh, allora, 30, 75 più nel mio account scambiabile, per la storia, dammi walkout, te prego, walkout? CC? Odegaard, vabbè, 89, oh, 89, bono, ma non è che sotto me dai qualcosa? No, vabbè, 20k, eh, non ce fanno schifo, non disdegniamo, eh, Ma non è che sotto ne sono Arau con qualcosa, no? Ah Bono Ah Massa che premi, Bellingham si arsa, non lo so, frate, ce l'ho pure io in lista, Bellingham Arauco, Arauco, Arauco E andiamo Ronald, ve l'ho detto, signori, ma ve l'ho chiamato, ma è la prediction della vita, ma lo sai che bisogna fare calcio con Ronald, perché ce l'ho in squadra, perché sentono il sapore del richiamo, il sapore del successo, una bella piotta di Ronald Arauco e si gode, l'avevo chiamato, Dio, mo cozzo 40, 75 più, 40, eh, qui, walk out, eh, te prego Ok ATT, Jamaica Quanto c'ha questa, 86 Abunni Aerial Ma è un cazzo in Avigorsol, ma come Aerial Ma come Aerial Ah, di Lorenzo, ho capito Mazza che pack Non è che mi hai dato Arauco? No, chiedo No Ammazza, questa è proprio merda, eh Mamma mia che pack, porco Due Livello 1, division 4 E andiamo, e andiamo 30k, 25, 75 più 15, 75 più Mega e team of the week con un picchettino pazzo Via qua, va Cambiabile Oh Beh, ti devo dire Che comunque Rodri 91 Da vendere non è male, amico Mi costo? Oh Ma ti dico che un 60k per Rodri Ce li mettiamo al saccoccione, eh Parti bene, calma Vabbè, Leaf, regà Leaf si apre così tanto per Non si trova un cazzo, sapete Manco workout Leaf è una sagra d'82 Chi è? Chi è? Non conosco Dai i premi delle rivals Sì, sì, ma lo so che è forte Rodri Però lui monetizza Ah, il grande Ancora gioca al Derweireld Allora, ci abbiamo Mega pacchetto che tanto fa cagare Quindi apri Walkout Portiere Unvedisommer Unvedisommer Vabbè, 10k dei sommer Sipiamo, eh Alien svegliati Ma che è punto esclamativo grafica, regà? Ma che è grafica? Ci abbiamo 15, 75 più Scambiabile 25, 75 più Non Vediamo, va Andiamo con Lo scambiabile Niente ATT Isaac Bene Comunque sono sordi, Isaac Bene Già ho fatti Playoff 5-0 Merci Quanto vale? Un minimo? 25, 75 più Non scambiabile Namo Namo Manco Workout Dai Ma che è? Ma chi è questa? Ma chi è? Dai Ma chi cazzo è? Out Ma che c'è famo Out Grib Buonasera Come? Non ho capito Mi distanzio fortemente A TT Mai Openda Turan Openda Lo dico, lo dico Scott McTominay è il più forze dopo Barella Cianoglun gioca Manopone, Pisilli Locatelli Reinders Oh Workout DC Olanda E Van Dijk E Virgil E Virgil E Virgil E il gigante buono Virgil Van Dijk Proprio lui signori L'abbiamo sculato Senza volerlo Non lo volevamo Ma va bene lo stesso Virgil Van Dijk Giocatore sontuoso Da un 2 2,77 più Era un 2,77 più Sì 2,77 più Virgil Van Dijk È pronunciato così Purtroppo Ci vuoi fare poco E qua Ismail Benazer Ci sta Ci sta Il mio profilo No Non sto aprendo io Sto aprendo un ragazzo Andiamo col 100k Va Per mio fratello compie Walkout CC Kevin De Bruyne Ma non è che sotto Mi dai qualcosa Che ne so Tipo un salà Che ne so Ma anche un Rudiger Bernardo Silva Vabbè È tornato È il primo Bernardo Silva Dell'anno signori Qua capoccia Bernardo mi sei mancato Non ti trovo più Che è successo Bernardo Bernardo che fai Bernardo Ah 2,75 più Vediamo va Vediamo che c'è troppa Walkout Da 2,75 più Non ce credo Regà Non ce credo Non ce credo No 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 Dai vabbè Ho capito Regà Ma 2,75 più Jude Bellingham Vabbè ho capito Ma fatevi schifo Cioè siete peggio di me No Peggio di me no Però Dai mazza che schifo Camaglia dell'Empoli che sta a fai E cose Dai 2,75 più Perché Jude Decilena Erride Cabesa La Mincola Surda E Rodrigo Cascante E facciamo calcio Sempre Ho sbagliato 100k Marco Antonio Russo Noi siamo già a posto Dopo Bellingham Quindi non dobbiamo chiedere altro Assolutamente No È una donna con la coda DC America È una merda Schippa vai Punto esclamativo Nazioni Ah Una bella merda Però con Bellingham Posso dire che abbiamo Compensato amico mio Vabbè Prendiamo una sculata La divisione 7 Che cazzo ci frega E dai Andiamo con sto mega Quando si alzano i prezzi Deve carte che devo vendere Io non so se si alzeranno più De così Regà Non c'ho idea personalmente Cdc Spagna Liga E chi è? Ah Ah coche Allora 2 giocatori 75 più Non mi dai crediti del preordine Nessuno gli ha dati Ragazzi Ma ragazzi 250k Sono crediti di Pro Club Non sono crediti su FIFA Dai realizziamoci Ragazzi Cioè Non vi danno i crediti così 575 più Scambiabile Vediamo che c'è da Niente DC Ti prego Van de Ven Tu lo devrai Ma Neymar Stava pure più basso ieri Però sì 150k è buono Questo sculiamo Frate per forza Dobbiamo sculare Gianca Obbligatorio Obbligatorio Walkout DC Porto Ma un altro Ruben Dias Ma che c'è Devo fare con Ruben Dias Ma cosa ci dobbiamo fare con Ruben Ma dai Ma dammi qualcosa Ma neanche sotto Mi dai che ne so Narao con Chiesa Un Rashford Chiedo eh Così per ide Ammazza che monnezza Mamma mia Oh Hendrick Oddio Hendrick Tu spicci Vale eh Jordi Alba Rispetto Andiamo col 100k Workout Vedi che schifo Akanji Sì però Massa che schifo Chiesa e foto In comprare dei giorni fa Li vendo li tengo Li puoi vendere Però dipende sempre da te Se vuoi giocarci No Rispetto per Manuel Akanji Un 100k Mi dai un walkout Uno eh Per mio fratello Dub Che ci ha portato 300k dei pacchi Uno Eh Atti Chi è Ashuller Madre di Dio Ma che cazzo C'è famo Che Ashuller Alittle Alittle E Ashuller Ho capito Sì Te lo dico dopo Che c'è famo Delict Goretzka Varan Ambedi che Nunez Valore Vale 2k 4 Vabbè E dica la verità Manco troppo male Do work out Do work out Tranquillo Vabbè